buongiorno benvenuti a una nuova puntata di dr penis oggi parliamo di cellule staminali cellule staminali che vengono utilizzate nel trattamento della disfunzione rettile e della malattia fibrotica del pene cioè nell'indurazio penis plastica abbiamo portato in europa non in italia in europa un sistema di prelievo di cellule staminali dalla cresta iliaca prendiamo cellule staminali dal midollo osseo con una procedura estremamente veloce estremamente facile ambulatoriale andiamo a prelevare questo tessuto ricco di cellule staminali dovete sapere che il midollo osseo è utilizzato già da tantissimi anni nel trattamento delle malattie linfo proliferative tipo leucemie mieloidi e così via queste cellule staminali questo midollo che è ricchissimo di cellule staminali le utilizziamo per trattare i problemi di deficit rettile di indurazio penis plastica il sistema si chiama cover stem siamo l'unico centro di riferimento a livello europeo che può effettuare questo tipo di trattamento siamo l'unico centro certificato dalla casa madre e questo ci riempie di orgoglio i risultati ormai sono tre anni che effettuiamo questo tipo di trattamenti i risultati sono veramente eccezionali utilizziamo la tecnica cover stem o da sola singolarmente o addirittura in combinazione con il priaposhot anche per il priaposhot siamo l'unico centro in italia autorizzato dal ministero della salute abbiamo un protocollo per il trattamento sui corpi cavernosi abbiamo un centro trasfusionale di riferimento che ci autorizza ad effettuare questa procedura è una procedura che prevede un'auto trasfusione che vuol dire il sangue viene preso viene separato si separa il plasma viene centrifugato e viene iniettata all'interno dei corpi cavernosi è un vero e proprio auto trapianto perché il sangue è un organo e quindi noi andiamo a fare un auto trapianto di un organo quello che dicevamo la sinergia tra priaposhot quindi tra plasma arricchito e cellule staminali prese dal midollo osseo è un risultato ci dà dei risultati incredibili da un punto di vista di trattamento di soluzione del problema oppure di trattamento propedeutico ad effettuare un intervento chirurgico di impianto di protesi al pene migliore perché perché spesse volte i pazienti dopo una prostatectomia radicale quindi per un tumore alla prostata oppure dopo una fibrosi severa del pene arrivano alla nostra attenzione desiderosi di effettuare un impianto di protesi peniena idraulica tricomponente durante la visita mostriamo quella che sarà la lunghezza del pene dopo l'impianto con la protesi attiva e tante volte il paziente vede vedendo il pene retratto il pene accorciato non è soddisfatto di quello che potrebbe essere il risultato finale in quel tipo di paziente noi effettuiamo una terapia combinata con cover stem e pre apple shot che ci permette di elasticizzare di più il pene nel giro di 3-4 mesi riusciamo ad ottenere un allungamento maggiore di un paio di centimetri ma soprattutto un tessuto più elastico e compiacente che ci permetterà di effettuare una procedura chirurgica molto molto rapida per evitare quelle che sono le possibili complicanze i sanguinamenti e il rischio di infezione durante l'intervento chirurgico bene spero di essere stato chiaro vi invito a mandare le vostre domande all'indirizzo email qui in sovraimpressione e ci vediamo alla prossima puntata di dr penis